Salve a tutti ragazzi, sono sempre un menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo ritornati qui con la carriera giocatore, con il nostro menzolino al Bayer Leverkusen ragazzi Sì, perché nello scorso episodio il Twente ci aveva venduto clamorosamente Cioè tu vendi il giovane più promettente del mondo intero così, su due piedi, all'improvviso Ma sonato al Bayer Leverkusen ragazzi, secondo me ottima scelta perché è una big particolare Secondo me, è veramente una squadra molto interessante, molto bella, con una grande formazione E nello scorso episodio ragazzi vi devo ringraziare perché sotto nei commenti vi siete sbizzarriti E mi avete fatto veramente morire dalle risate Vi leggo qualche commento che mi avete lasciato perché sono veramente morto Già in due mi hanno scritto Ultra Twente e Newcastle Adesso fai retrocedere anche il Bayer Me l'hanno scritto in due, sono veramente deceduto, caduto dalla sedia Perché è incredibile, in effetti adesso che ci penso sia il Twente che Newcastle sono retrocessi nella realtà Ma il Bayer Leverkusen non credo retrocederà Poi ovviamente sono troppo figo con questa maglia Ma la cosa migliore sono le cavigliere ragazzi Cioè con quelle cavigliere sono un figo pazzesco e sono anche fortissimo Poi mi avete chiesto in tantissimi di guardare per quanto sono arrivato al Bayer E io ci ho guardato e sono arrivato clamorosamente al Bayer per 8 milioni Però adesso ne valgo già uno in più Valgo 9 milioni, sono un 18enne con un overall di 75 E non si vedono tutti i giorni Mentre un ragazzo ha scritto un commento dicendo Che urlavi Ciaranoglu in quel modo era quotato 1.01 E questo è un fedele ragazzi Perché se uno è uno che scrive un commento del genere Vuol dire che ha seguito tutta la carriera con l'Inter Ciaranoglu! Ora ragazzi sono inserito nella formazione titolare Questa è la nostra situazione in classifica Dobbiamo cercare di arrivare nelle prime posizioni Quindi andiamo a giocarci questo match contro il Mainz Attenzione al Mainz con Cordoba Per malli il tiro Qui Leno fa una bella parata Attenzione a Menzolandia Per Cicerito Il Cicerito si allunga il pallone Mannaggia te Cicerito Menzo scambia con Cicerito Cicerito mettila in mezzo Fai qualcosa il tiro Paracarius Purtroppo ragazzi stiamo facendo una partita di merda Ma non capisco per quell'assurdo motivo Nello scorso episodio non era così Adesso ogni volta che abbiamo il pallone Torniamo indietro La passiamo sempre indietro Non andiamo mai verticali Attenzione al Mainz con Jairo Jairo Oh! Fermatelo! La mette in mezzo! Fai! Tira di mancino La palla va fuori 10 minuti alla fine della partita Questo pareggio non ci stava per niente Non ci stava per niente Vai Cicer Vai Cicer Palla per Camp Sì fatelo Fatelo! Lo faccio io! No non lo faccio io Perché me l'avete passata che non ho spinto un cazzo? No! Finisce qui ragazzi 0 a 0 Partitaccia Veramente partitaccia Ho fatto cacare I nuovi obiettivi sono Mi aspetto una valutazione media minima di 7.9 Come 7.9? Cioè devo segnare in ogni partita Ah! Poi non mi ha inserito nella formazione Questo vaccone Ah! Non me l'aspettavo sinceramente Pareggio Pareggio contro il Verder Brema Non ci stava neanche questo pareggio Però scusatemi una cosa Secondo me questa modalità è fatta un po' di merda Perché Mi dai questi obiettivi Per 4 partite Poi non mi fai giocare Già il fatto che io non posso neanche entrare in partita Per me è una cagata Non mi fai giocare Quindi mi rimango in 3 partite Per avere una valutazione di 7.9 Che da un lato è meglio Ma dall'altro è peggio Mi ha inserito nella formazione questa volta Contro l'Augsburg Gran palla recuperata Palla per Kiesling Cioè ragazzi Ma vi rendete conto che c'è andato in rove In scivolata C'è andato in scivolata Io ho spinto il quadrato per tirare E c'è andato in scivolata Eh che queste cose hanno veramente dell'incredibile Attenzione a Menzo Il tiro giro La palla arriva a Kiesling Che stavolta colpisce bene Ma la palla va fuori Menzo Balla per A per Kiesling Fuori gioco Dai Kiesling Buttala in porta Mannaggia te Siamo già a 6 tiri a 0 Oh che bella palla che mi avete dato Eh qua me lo sono cagato ragazzi Me lo sono cagato Me lo sono proprio cagato In faccia questo gol Di quanto poco è uscita però Mamma mia Menzo per il ciciarito Può andare il ciccia Io sono un po' stanco sinceramente Ciccia la mette in mezzo La palla resta lì Comunque ragazzi Mi sembra una cosa un po' strana Sinceramente Che Se non faccio gol io Difficilmente i miei compagni li fanno E non è una gran cosa questa Cioè nel senso Sembra che quando gioco io Oh 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 Ormai i M&M facciamo gol della madonna Quando gioco io Tutto sia nelle mie mani Cioè anche adesso Boh Sono finite due partite Praticamente 0 a 0 E i miei compagni non fanno niente Non fanno niente Finita 0 a 0 Anche questa Non so che cosa sta succedendo ragazzi Non riesco più a far niente Cioè un punto è meglio che 0 Però insomma Ora andiamo avanti con la parrita contro l'hamburger Speriamo di rifarci da queste prime due partite Che ho giocato Dove sono andato veramente Veramente Molto male Forza Stiamo qui con la testa Menzo Recupera una gran palla per il cicciarito Dai ragazzi Io sono sconvolto da questa cosa Cioè non posso fare gli assist Sì Goldi Hernandez Gli ho detto io di tirare Gli ho detto io Gli ho detto io di tirare Guardate un po' Ho provato a tirare da fuori Ovviamente ho preso un coglione in bocca Poi Papastatopoulos Papadopoulos Lì ha fatto una roba incredibile E passiamo in vantaggio Finalmente Menzo Il tiro di Cruz Per Wendel Mamma mia Cos'è successo qua Comunque ci cagliamo sempre dei gol Importanti Menzo Per il cicciarito Tira Adler Non me lo faranno fare un gol Forse Attenzione Cazzione Menzo Sempre Cioè sempre un culo Cioè io devo sempre prendere un culo Quando tiro Porca miseria Mi sono fatto ma Vabbè ragazzi Vabbè Mi sono spaccato E Cruz Non riesce a mettere Neanche il 2-0 Io sono morto Rotto Se muoviamo il resto Della partita Beh certo che sono sicuro Cosa voglio fare Cioè in questa stagione Lo stoccarda In casa loro Siamo già in vantaggio Pareggio E' incredibile Mi sembra di giocare Mi sembra di fare Mi sembra di essere ancora al tuente Ragazzi Ragazzi Dato che sia contro il Bayern Che contro il Borussia Dortmund Avevo fatto Una buonissima prestazione Tanto il Wolfsburg E' già in 10 Con l'espulsione di Schurle E passa in vantaggio E passa in vantaggio Incredibile Sta cosa Veramente Incredibile Non riusciamo a pareggiare Ragazzi Non ce la facciamo Incredibile Cioè veramente 2-0 addirittura 2-0 Loro in 10 E noi abbiamo perso pure 2-0 Andiamo ad allenarci Siamo vicini Alla 76 di Overall Belli questi allenamenti Saliamo Saliamo molto E stavolta Cutro il Colonia Sono in formazione Stiamo a mezzo Entra in aria Horn Timo Horn Che parata ha fatto Ancora a mezzo Sempre Horn Stavolta l'avevo piazzata Ancora a mezzo Fuori Peccato Menzo Balla parla per Kramer 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 Ancora a mezzo Prova a girarsi Ce la fa Menzo Menzo Menzolandia Menzolino Il Bayer Leverkusen Passa in vantaggio Finalmente Mi sono sbloccato Mamma mia che fatica Qui Tra Kramer e me Non so chi ha fatto più cacare In questa azione Qui ho avuto Proprio culo Sono molto fortunato Poi di destro A incrociare Horn Non può niente Dopo il quarto tiro Verso la porta Riesco a buttarla Riesco a buttarla dentro Finalmente Oh Attenzione Dovrei essere in posizione regolare Menzo Davanti a Horn Ho fatto una cagata Ho fatto una cagata A palo Mi sono avvicinato troppo Al portiere Ragazzi Mi sono avvicinato troppo Al portiere Pensate che mi sono avvicinato Apposto Per essere sicuro Invece Io l'ho tirata proprio addosso Nonostante l'abbia fatta L'abbia messa a giro Menzo Entra in aria La palla per il cicciarito Finalmente Un assist Me lo hanno fatto Finalmente Gol del cicciarito Su mio assist Quanto siamo fichi Quanto siamo belli Mamma mia Porca puttana Qui ho recuperato un gran pallone Mi ne vado sulla fascia Il gol Della merda Qui per il cicciarito Bam Perfetto E c'è anche l'assist Mi ha Ottimo Perfetto Mi ha pure tolto dal campo Sono felice per questo Saliamo al 76 Ragazzi Saliamo al 76 Molto bene Orca boia Quanto poi Notizie Menzo Definito un pilastro Della squadra Pensate voi Pensate voi Questi sono i miei nuovi Obiettivi Ah per il campionato Ok Dai Dobbiamo fare un altro gol Almeno Io andrei a giocare Anche questa partita Contro L'Eintracht Francoforte Siamo sempre quinti In classifica Abbiamo recuperato Un punto Al Volsburg Che ha pareggiato Ora andiamo a giocarci Questa partita Poi vi saluto Vi saluto ragazzi Perché non sto tanto bene Attenzione Attenzione Leverkusen Gran movimento Gran movimento Gran palla Gran palla Ragazzi Qui è stata un'altra Bellissima azione Ho chiamata in mezzo Io per il cicciarito Però è arrivato Bender Se non sbaglio Che ha tirato male Ha preso la traversa E dopo la palla è arrivata a me Doppietta E 3 a 0 Attenzione Menzo Finisco il primo tempo Con questo brivido Stavolta me ne va da Zambrano Però Attenzione Menzo Azebe Si mette in mezzo Sono stato sostituito Ragazzi Simuliamo il resto Della partita Però Eravamo 3 a 0 Sono contento Per questa vittoria Perfetto signori Ci siamo qui Nel prossimo episodio Inizieremo con lo Schalke Che se non sbaglio È terza in classifica Esatto Siamo a un punto La Borussia Dortmund E 3 dallo Schalke Sarebbe importantissimo Veramente Riuscire a vincere Per il momento Questi sono i nostri obiettivi Del campionato I gol li ho fatti Gli assist ancora no Ne ho fatto uno Ne devo fare quattro Per il momento Sono anche in linea Con la realizzazione E la valutazione media Per partita Questi invece sono Gli obiettivi Per questa Serie di partite Ma per il momento Sono molto in linea Perché avevo Una valutazione minima Di 6 E sono a 10 Qui mi segna Ma probabilmente Sarà buggato E poi Sono al 30% Di realizzazione Ho già segnato 3 gol Signori Spero che questo Episodio vi sia piaciuto Vi abbandono Perché non sto Tanto bene Sinceramente Volevo giocarmi Anche la partita Con lo Schalke Ma lo lascio Per il prossimo episodio Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi